ore 8 o quasi cotechino off road questa è la situazione in zona traghetto c'è un nebbione però dai sta spottando il sole quindi siamo ottimisti si va all'iscrizione abbiamo un intruso della serie a volte si ritrovano questo oggi li chiamano i nostri amici della corpia 260 chilometri la madonna un po più via via se non c'è il cotechino è una fete esatto e no non c'è ecco qui c'è il cotechino c'è già il primo caduto via vedete che è rimpegnativo non solo i selfie il piro li fa inclinati 45 ma anche il frontalino lo tiene inclinato di 45 non si smentisce non si smentisce un'informazione io gli ho chiesto per la salsiccia ma risposta noi siamo i vostri eroi siamo i vostri eroi della salsiccia non vi sento non vi sento c'è e sabione dov'è cioè siamo siamo già siamo già sull'asfalto non ho capito io no visto come avete rotto i coglioni per la famosa escursione del forte san marco siamo venuti qua per te io non aspettavo un maestro così competitivo competitivo non è raggiunto non è un altro ahahahah ma sto registrando questa stronzata acqua dai cosa vuoi che scia vai Enzo salutiamo anche la nostra fotoreporter dai che abbiamo pulito le ruote Enzo c'è dell'altra acqua? no sabbione chi? io nell'acqua ci sguazzo non 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 è Si riparte dopo la riparazione alla forattura con stallonatura addirittura. Non si riparte dopo la riparazione alla forattura con stallonatura addirittura. Qui ci sono passato col buttaro e col piro e il ramo, io ho il buttaro, il piro e il mambo. E' su! Abbiamo sistemato il maestro. Ciao a tutti! Ciao e grazie a tutti! Ciao! Ciao! Siete dei begli amici! Il mambo semina fresco raccoglie! Ho preso il numero di telefono della... Ma che rutina? La chicane! Con l'appoggio! Ale! Surpassato Paolo! Ale! Ciao! Ciao! Ma di cuno come? Severi! Elettricista da una vita, a volte non abbia una bici elettrica. Dai! Piro 32! Fortuna che oggi ero venuto per fare l'affaticamento! Fanculo! Ciao! Mi ha fatto il bagno? Ciao! ... ... ... che so il borsetti abbiamo qui davanti il maestro il nostro corso No, 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 no Viva le donne, viva le belle donne Andiamo, andiamo Sta arrivando, sta arrivando Via, via, via Secondo ristoro Stanno aspettando solo noi per andarsi a casa Guarda, c'è Mambo che ci ha anticipato per finire tutto Saluta i tuoi telespettatori Oh, che bello Oh, che bello Oh, che bello Oh, che bello Sì, sì, è vero Nel verde È per aumentare il dislivello Oh, che bello Che bello sto perso? Go bene Oh, che bello Oh, che bello Oh, che bello Oh, che bello bene e un tirato al rio vengono andati qua perché l'hanno facilitata a tante persone con le forature vengono andati qui sono qui davanti a crispera quindi ok ok abbiamo finito adesso andiamo per bravi complimenti però potevo dirci che la gara era un giro solo non due invece ne abbiamo fatti due e abbiamo anche riparato la gomma del cuore Paolo due giri sono stati troppi adesso prendiamo il tagliandino e andiamo a manzano però vuol dire che se lo diamo proprio duro qui grande il mambo alla salute la pirata è entrata a 3.3 si chiude qua con birrette e tutto il resto abbiamo mister Enzo Severi grazie mister mambo abbiamo il comunista grande 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 Paolo ho saluto con il team poi non ho portato a perdere no no l'altro con il greco è risso è risso sempre e poi il mio amico Piero Ceni ciao bello per finire con una scala allora il mambo voleva dire un'ultima cosa il mambo italiani ah guarda 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 si 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 mambo 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 oh però devi dire bene oddio 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 mani ai fianchi mani ai fianchi così italiani bravo vincini e l'ultima vincini vincini e partite vincini e partite quando tornerete saremo vincitori peccato che oggi l'abbiamo vinto però aspetta l'inizio va bene eravamo ultimi no no eravamo ultimi quasi a causa della comunista abbiamo anche recuperato non siamo neanche arrivati ultimi quindi allora prossimo appuntamento ci saremo tutti ci saremo tutti ci saremo tutti sarà alla Spoleto Nord ce la facciamo a finire sto filmato o no? l'avevo chiuso prima va bene ok due fans ok Paolo dice di chiudere chiudiamo ok ciao Gordello ciao 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 ciao